Tranquilli, non state guardando le immagini del prossimo Call of Duty. Questi sono pur sempre dei droni, ma il loro compito non è far esplodere terroristi o tracciare la mappa di gioco. Bebop, il nuovo drone di Parrot, è soltanto, anche se questa parola può quasi sminuirlo, puro divertimento. Studiato per essere il compagno ideale di chi vuole filmare azioni estreme o destreggiarsi nei cieli in un mix tra prima e terza persona, Bebop banca al suo interno una videocamera da 14 megapixel, in grado di registrare video in Full HD a 30 fps e scattare foto di elevata qualità. Un'autentica action cam svolazzante? Basta una sola telecamera a questo drone per tenere d'occhio l'intero panorama, essendo un fisheye a 180 gradi. Il proprietario può dunque sfruttare le varie angolature disponibili in modo digitale, guardando in alto e in basso, a destra e a sinistra, senza dover per forza muoverlo o far ruotare il drone. Dopo tre anni di sviluppo, Bebop è sceso sul mercato con elevati standard di sicurezza, dovuta ai numerosi sensori che assicurano la massima stabilità in aria e conferiscono il pieno controllo al proprietario, che può comandare il drone utilizzando un qualsiasi smartphone o tablet Android o iOS. Per chi vuole invece vivere un'esperienza più accattivante e avere comandi fisici in mano, c'è lo Sky Controller, un dispositivo con Android integrato che permette il controllo totale di Bebop. La visione tramite la videocamera del drone è istantanea sul dispositivo che state usando, in modo da poter vedere da un'angolazione tutta nuova il mondo che vi circonda. Se volete anche ripercorrere la vostra esperienza, vi basta registrare il tutto sulla memoria interna da 8 GB e poi trasferire i file sul vostro PC. Ultimo, ma non meno importante, è la possibilità di utilizzare occhiali virtual reality come occhio di thrift, per vivere in prima persona il volo del drone e vedere il panorama direttamente dal suo occhio digitale. Grazie alle nuove tecnologie in arrivo, anche i giochi potranno godere di questa funzione, per rendere Bebop ancora più divertente di quanto già non lo sia. Per maggiori informazioni sulle qualità tecniche, software, hardware, curiosità e prezzi di Parrot Bebop, leggete pure l'articolo di gamesol.it in descrizione. Grazie a tutti!